Claudio Ursella, si prepara Giulia Pezzella. Allora, sono stato presentato come l'esponente rappresentante della palestra popolare, ex Barcelli, Altrullo, un quartiere della periferia romana, del recente passata Le Croniche per le vicende di Montecucco. Però ovviamente non sono qui a nome della palestra popolare, perché dentro le strutture sociali, in gran parte delle strutture sociali che operano sui territori, che fanno quotidianamente quel tipo di lavoro, dei servizi, di cultura, di socialità e quant'altro, anche di piccola produzione di reddito per quanto è possibile, è difficile parlare di elezioni. Non c'è un grande interesse al tema elettorale, diciamocelo chiaramente. Quindi io sono qui perché invece individualmente, svolgendo un lavoro sociale, so che senza una sponda politica, la capacità di un lavoro di istituzione e quant'altro, non si può produrre cambiamento. Perché però io penso che bisogna ragionare su questo tema? Perché qui stiamo parlando di una cosa che ormai riguarda il 50% dei cittadini, ce lo dobbiamo capire, e che riguarda probabilmente il 20-30% del nostro referente sociale, perché l'astenzione nei soggetti a livello popolare cresce al 65-70% dentro le periferie. Questi sono i dati. Quindi dobbiamo capire. Io penso che c'è un elemento fondamentale, e cioè che quello che è successo, con cui saremo obbligati a misurarci, se facciamo una scelta di concorrere alla prossima scadenza elettorale. Ed è il problema che purtroppo negli ultimi vent'anni è invalsa la logica per cui il meccanismo elettorale ha un senso nella misura in cui si è vincenti. Cioè non c'è più un ruolo per le opposizioni, è chiaro no? Per cui o tu sei sicuro di essere nella squadra vincente attraverso un meccanismo clientelare, attraverso il riconoscimento del tuo interesse, in un qualche modo sei convinto di essere parte della squadra potenzialmente vincente, o altrimenti tu non partecipi, sei escluso, ti tiri fuori. Che è quello che è accaduto in vent'anni. No? E ovviamente questa cosa è riguardato i soggetti popolari, che sono quelli che hanno più difficoltà a essere nella squadra vincente. Noi oggi ci presentiamo, ci proponiamo il problema di produrre un'alternativa alla regione Lazio, sulla base di un programma. Non entro nel merito, su tutte le cose che ho sentito sono condivisibili, tra l'altro dato che chiunque sta, siamo tutti in una certa età e sappiamo che i nostri contenuti abbiamo prodotti in anni di elaborazione e tante volte ce li raccontiamo fra di noi. Il problema che abbiamo appunto è di capire come noi facciamo sì che i nostri contenuti svolgano un ruolo dentro una vicenda elettorale in cui ci troveremo di fronte a tre carri armati che sono nella possibilità di dire noi governeremo. Centrodestra, Cinque Stelle e Giunta Zingaretti. Chiaro, no? Loro potranno dire noi governeremo. Noi con i nostri programmi non potremo dire credibilmente noi governeremo. Quindi o noi ritroviamo un ruolo preciso nel quale noi possiamo dire noi faremo l'opposizione e la faremo sui nostri programmi e la faremo senza mediazioni, senza inciuci, senza fraintendimenti, senza retramenti e allora potremmo riacquistare un ruolo e un senso e dare un ruolo e un senso a questa democrazia. O altrimenti noi giocheremo una partita velleitaria, faremo il vaso di coccio tra i fasi di bionbo e non potremo offrire alcun servizio a questi cittadini a cui ci rivolgiamo. Il primo servizio che dobbiamo offrire è quello di far dimostrare che il loro impegno nel sociale, il loro impegno conflittuale, il loro impegno nelle vertenze, nelle lotte, trova la possibilità di arrivare nelle istituzioni e non perché si va con il cappello in mano dal consigliere a chiedere se per favore, ma perché c'è qualcuno che rappresenta quella cosa come un diritto e lo fa come un dovere. Quindi io penso che oltre al nostro programma noi dovremmo inserire, e chiudo su questo, noi dovremmo inserire nella nostra presentazione i primi atti che i nostri consiglieri dall'opposizione anche faranno subito in rappresentanza dei soggetti conflittuali e delle realtà delle basi. Un esempio banale dalla questione della casa, le cose che ha detto Deo, la necessità della richiesta di requisizioni e il blocco degli sfrani, cose che noi faremo subito al blocco della Roma Latina, gli interventi chiari dicendo e li dovremmo contrattare, dovremmo costituire un gruppo di lavoro delle quattro persone che stilano una lista dei soggetti sociali a cui andiamo a incontrare per chiedergli, per dirgli noi siamo al vostro servizio, non vi chiediamo di votarci, vi chiediamo di usarci. Veniamo qui da voi, sì, veniamo qui da voi per dirci cosa dobbiamo fare il primo giorno che siamo entrati. Grazie. 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 Grazie.